Ciao a tutti, non spaventatevi perché come sempre siamo nel periodo alluminiano e questa volta ho pensato a questo look se non avete visto il look dell'anno scorso ve lo lascio nella scheda informazione o nell'info box qua sotto come sempre faccio dei trucchi alluminiani molto semplici con cose che potete reperire tranquillamente in casa non servono siliconi, cose varie, l'unica cosa per completare questo look che sarebbe top le lentine rosse, da dio proprio e come avete letto dal titolo questo look è ispirato al film So L'Enigmista, se non l'avete mai visto vedetelo se non siete deboli di cuore comunque ho voluto fare un misto tra appunto questo film, le marionette che per quanto mi riguarda sono la cosa più inquietante del mondo e un misto Joker però tutto naturalmente rifemminizzato perché se no come facevo quindi se il video vi piace, il look vi piace lasciate un pollicino in su e iscrivetevi al canale se ricreate questo look postate una foto o su Instagram o su Twitter e taggatemi qua sotto trovate i miei profili nell'info box quindi taggatemi perché voglio vedere cosa riuscirete a fare detto ciao io vi lascio il video tutorial, un bacione e buon Halloween, ciao come prima cosa comincio a stendere il primer su tutto il viso per far durare il trucco di più dopodiché prendo un ombretto bianco e il fondotinta più chiaro che avete e li andiamo a mischiare insieme in questo modo andremo a ottenere un colorito più spento e molto più spaventoso dopodiché sfumo il tutto con un pennello dopo aver fatto questo fisso la base con lo stesso ombretto bianco ed un mega kabuki fatto ciò prendo un gel eyeliner nero e disegno le mie sopracciglia naturalmente non devono avere un aspetto tranquillo prendo lo stesso gel eyeliner e lo vado a stendere su tutta la palpebra dopodiché lo vado a sfumare nella piega e lo porto molto in alto mi raccomando sfumatelo anche vicino all'attaccatura del naso e portatelo leggermente in basso stando lo stesso prodotto anche sotto e vado a sfumare anche questo dopodiché prendo un ombretto nero fisso leggermente il gel eyeliner e sfumo ancora di più prendo questo ombretto color borgogna e vado a stenderlo soprattutto nella parte inferiore per simulare una sorta di occhiaia e poi lo vado a mettere anche un pochino sulla palpebra superiore fatto questo prendo un ombretto chiaro e vado a illuminare sotto l'arcata poi prendo una matita nera e la vado a mettere nella rima interna e con la matita rossa vado a fare le classiche girandole sulle gote dopodiché con lo stesso pennello di prima e l'ombretto nero vado a fare questa ombreggiatura che andrà ancora di più ad enfatizzare la gota prendo il rossetto rosso e dopo aver fatto questa linea leggermente alla joker vado a riempire quindi questo è il look finito io spero tanto vi piaccia ripeto se volete finirlo in maniera un po' più vistosa mettete le lentine rosse e una parrucca nera e siete a cavallo io vi mando un bacio in immenso e buon halloween muah 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 muah